Un gennaio di fuoco, on fire, come si dice nel gioco cestistico per la Delfa e Savellino, nonostante ci sia all'esterno una temperatura glaciale. Prosegue il cammino dei lupi in vista del match di domenica a Ruo di Puglia in casa della Tecno Switch, quarta forza del torneo, allenata da Francesco Ponticiello. Gli uomini di Giovanni Benedetto non giocano una gara ufficiale in campionato dallo scorso 23 dicembre, dal colpace in casa del fanalino di Coda Formia, un bel po' di tempo. L'unica nota positiva è che in questi 20 giorni circa di allenamenti, il trainer di Reggio Calabria ha testato i giocatori uno ad uno ed ha avuto l'occasione per lavorarci su, oltre che sulla tecnica, anche sulla testa dei cesti stirpini, chiamati adesso ad un vero e proprio tour de force. Quattro match in meno di 20 giorni, il primo mese del nuovo anno, dovrà portare più punti possibili alla Delfa, essendo una classifica molto più tranquilla. L'innesto di Tariq Ayrovic permette una rotazione in più sotto le plance e potrebbe permettere ai bianco-verdi di rimanere in partita fino all'ultimo, cosa che non è sempre avvenuta, specie nella prima parte della stagione. Contro Ruvo sulla carta è un match proibitivo, i pugliesi erano partiti infatti tra le favorite e poi un cammino altalenante ne ha compromesso il cammino verso la vetta, che però resta solo a quattro lunghezze. Le gare del Del Mauro invece contro la Viala Reggio Calabria, prima del giorno di ritorno, e Torrenova non sono assolutamente da sbagliare, come non lo è lo scontro diretto di Cassino, previsto per il 29 gennaio.